Ti sei mai chiesto perché il tuo cane piace così tanto leccarti? In questo video di Nimalpidia risolveremo tutti i tuoi dubbi. Presta attenzione e scoprirai perché i cani ci leccano il viso, la bocca, i piedi, le mani e le orecchie. Da non perdere! Perché ti leccano la faccia? Lo fanno per mostrare tutto l'affetto e l'amore che provano per i loro amici umani. Questo comportamento è considerato parte del comportamento affigliativo che questi animali svolgono con l'obiettivo di rafforzare il legame. Pertanto è normale che il tuo cane ti lecchi la faccia quando arrivi a casa come saluto. È molto felice di vederti e vuole accoglierti con stile. Esiste accoglienza migliore? Perché ti leccano la bocca? Da un lato, se il tuo cane è un cucciolo, può farlo perché ha fame e desidera che tu gli serva al cibo. Questo tipo di leccata è istintiva e viene utilizzata dai cuccioli quando iniziano a mangiare cibi solidi. D'altra parte, se il tuo cane è un adulto, potrebbe doversi ad altri motivi. Può essere un segno di affetto o un segnale di calma quando lo stai stressando. Possono anche leccarti la bocca per attirare la tua attenzione o per svegliarti la mattina. Se ti lecca la bocca perché si sente a disagio, stressato e sopraffatto, è importante identificare la causa della situazione per cambiare ciò che gli dà fastidio. Perché ti leccano i piedi? Ci sono diversi motivi per cui un cane ci lecca i piedi. Nella maggior parte dei casi è dovuto all'odore che emanano. La sudorazione espella i sali che i cani trovano irresistibili, anche se per noi è un po' sgradevole. D'altra parte possono anche lecarci i piedi per gioco, per sperimentare nuovi odori o per attirare la nostra attenzione. Perché ci leccano le mani? Questo comportamento è legato alla loro curiosità. I cani amano esplorare e conoscere tutto ciò che li circonda, inclusi gli esseri umani che vivono in casa o chi viene in visita. Le nostre mani possono rivelare molto su ciò che facciamo durante la giornata, i luoghi in cui siamo stati e le cose che abbiamo toccato. Quando il tuo amico ha quattro zampe ti lecca, può riconoscere alcune di queste attività. In questo modo, con la sua leccata, cerca di conoscere un po' la tua routine. Perché ci leccano le orecchie? Le orecchie sono una delle parti del corpo che attira maggiormente l'attenzione dei nostri cani. Spesso leccano le orecchie degli umani e dei loro simili. Sai a cosa si deve questo comportamento? Può essere per tre motivi. Da un lato potrebbe essere per igiene. I cani si leccano le orecchie a vicenda come misura igienica e potrebbero provare a fare lo stesso con noi. Significa per caso che siamo sporchi? Non necessariamente. Per i cani è solo un modo per prevenire la formazione di cerume, quindi questo gesto ha lo scopo di aiutarti. D'altra parte, anche se suona sgradevole, potrebbero farlo perché gli piace il gusto. Ricordiamo che i nostri amici a quattro zampe conoscono il mondo attraverso i loro sensi dell'olfatto e del gusto. Per questo motivo non sorprende che si dilettino nelle carci costantemente. Infine, potrebbero farlo come dimostrazione di affetto, come succede per la faccia. Il tuo cane potrebbe leccarti le orecchie per esprimere il suo amore. Se ti soffermi a pensare attentamente, quando il tuo fedele amico lo fa, tu gli rispondi con cocco alle carezze, spingendolo a continuare a leccarti. Ma questo non è l'unico modo in cui dimostrano il loro amore. Scopri nel video che ti abbiamo preparato 10 segnali per capire se il cane ti adora. Dicci, per quale di questi motivi pensi che il tuo cane ti lecchi? Faccelo sapere nei commenti. Alla prossima!